4 barra 72 barra 23 dai ragazzi c'è Trevor che dice 72 state zitti è il momento clou che stanno indicando uno ha la pistola puntata all'altro eh te l'ho detto Nico di scaldare poco la pasta eh ma la pasta non è fritta perchè non l'hai fritta eh perchè l'olio non l'avevamo portato ho detto a te di comprarlo vedi questa pistola eh oddio mi ha lasciato una pistola non ci credo sei bravo mi raccomando l'altro video